La riforma del diritto di famiglia per essere compresa va inserita all'interno del suo tempo. Il suo tempo è quello degli anni 70 o meglio di una lunga fase di trasformazione della società italiana, di una accelerazione straordinaria legata al miracolo economico, legata ai grandi spostamenti di popolazione che avvengono, legata a una trasformazione e una complessiva modernizzazione della società. Per essere capita quindi va collocata insieme ad altre grandi riforme o momenti di partecipazione civile come sono state il referendum per la progazione del divorzio, fallito, oppure la legge sull'interruzione di gravidanza o ancora come tanti interventi nelle istituzioni, nelle parti della società e appunto istituzionali del Paese, in un momento in cui c'è una grande impulso ai diritti, ai bisogni a trasformare i principi stessi della Costituzione in realtà. Da questo punto di vista la riforma del diritto di famiglia è un momento essenziale, perché non soltanto cambia l'idea, la pratica della famiglia, ma costringe gli italiani a vivere nel concreto, nella loro realtà concreta, trasformazioni che in realtà stanno già avvenendo nel Paese. La riforma del 1975, la riforma del diritto di famiglia, cade apparentemente in esecuzione o adeguamento alla Costituzione, in realtà la Costituzione aveva già più di 25 anni, cade in un momento in cui socialmente, culturalmente, politicamente il regime della famiglia nel codice civile del 1942 era del tutto superata, inadeguata alle opinioni ormai acquisite. Qualche anno prima, nel 1970, c'è stata la legge sul divorzio, che ha naturalmente modificato profondamente il rapporto tra i coniugi. Nel 1974 il referendum. Ed è una riforma importante, innanzitutto sbaracca la vecchia idea del pater familias, l'uomo capo famiglia. Eguaglianza dei coniugi, abolizione della dote, eguaglianza di posizione dei genitori nei confronti dei figli, eguaglianza dei figli nati dentro e fuori del matrimonio, quelli che si chiamavano i legittimi e i naturali. Poi più recentemente una riforma ha portato anche a compimento questo aspetto. Ora, siamo nel 1975, poi dopo le cose sono anche cambiate. Questa è materia che è rapidissimamente in evoluzione. Abbiamo una pluralità di famiglie, tutte le famiglie di fatto, che sono famiglie. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'ha detto più volte ormai, che sono famiglie, anche se non sono fondate sul matrimonio. Non sono uguali, ma sono famiglie, con dei diritti, dei doveri naturalmente, soprattutto nei confronti dei figli. Ci sono dei temi anche conflittuali nei confronti della società. La legge qualche volta segue, altre volte spinge le riforme, le evoluzioni e quindi questa è materia che, diciamo, dopo la riforma del 1975 è tutt'altro che riformata. La riforma del codice di famiglia è stata una tappa fondamentale per la liberazione delle donne e anche per un raggiungimento di un livello di eguaglianza più soddisfacente come quella che sarebbe stata subito nel 1948 già promessa dalla Costituzione, ma in realtà non attuata. Rimanevano un sacco di leggi vecchie, fasciste. Una di queste era il codice di famiglia che ribadiva questo diritto della patria potestà dell'uomo sulla donna e anche sui figli, che era di fatto questo principio di potere del patriarcato, sulla famiglia, ma anche sulla società. Naturalmente ci furono, a cominciare dagli anni 60, una serie di cambiamenti notevoli anche nella società e nel costume prima di arrivare a questa legge. Ricordo che Gabriella Parca scrisse un bellissimo report su che cosa pensano le donne che cominciarono a mettere in discussione la loro sessualità e l'insoddisfazione che ricevevano da parte degli uomini. Poi ci fu la Beauvoir con il secondo sesso, la Lonzi con il sputiamo su Hegel, furono tutte tappe fondamentali per arrivare a questo momento. Ricordiamo che già nel 70 c'era stata approvata la legge sul divorzio, quindi che era stata determinante, ma il 75 è proprio un anno importantissimo, questo in cui si arriva alla riforma del diritto di famiglia. Io allora ero studentessa a Trento e avevo una figlia che era nata da pochi anni, era nata proprio nell'anno del divorzio e non avevo potuto andare a scuola prima, all'università prima, perché mio padre mi aveva proibito di farlo, mi aveva imposto subito, appena diplomata, di andare a lavorare con lui. Quindi ho patito, diciamo anch'io, sulla mia pelle questa patria potestà. Naturalmente nel 75 ci fu anche un altro evento importantissimo a cui io partecipai, che contribui anche a cambiare il clima e fu una grande manifestazione per l'aborto di sole donne a Roma, dopo che all'inizio dell'anno era stata arrestata Delefaccio che chiedeva la depanelizzazione ma praticava anche aborti clandestini contro la legge allora perché era stato ribadito che non si poteva se non avere l'aborto terapeutico. Queste sono un po' le tappe principali e quindi adesso è cambiato tutto, sembra quasi impossibile che non si potesse per esempio usare gli anticoncezionali. Una delle altre tappe fondamentali è stata la legge sui consultori che proprio insegnava invece alle donne come gestire questo problema. Oggi cosa rimane? Rimangono tante cose aperte perché per esempio non è stata definita la coppia di fatto, non sono state definite l'unione gay, ma anche l'Italia è già stata condannata dalla Corte perché non è stato dato come completamento della riforma di diritto di famiglia il diritto delle donne a dare il loro cognome ai figli. Quindi ci sono ancora delle cose da portare avanti ma credo che siamo sulla strada giusta.